Il De Monarchia di Dante Alighieri può ragionevolmente intendersi come il suo testo politico per eccellenza. Non che naturalmente non vi siano numerosissimi riferimenti politici nella Commedia, che anzi è un'opera anche politica indubbiamente, però il De Monarchia in quanto tale può considerarsi, dicevo, il testo politico dell'Alighieri. L'opera venne composta negli anni 1312-1313, vale a dire al tempo della discesa di Enrico VII di Lussemburgo in Italia. Ad avviso di alcuni interpreti, però, dovrebbe essere anticipata la composizione del testo al 1308. Altri ancora, infine, si spingono a posticipare la redazione del Trattato dantesco al 1318, pochi anni prima della morte dell'autore, che come noto avverrà nel 1321. Ora, il De Monarchia interviene su uno dei temi decisivi dell'epoca nella quale vive e opera Dante, ed è il tema del nesso tra il potere temporale rappresentato dall'imperatore e l'autorità religiosa rappresentata dal Papa. Ecco, possiamo dire che, in generale, Dante Alighieri, con il De Monarchia, prova a stabilire il nesso preciso tra autorità religiosa e autorità temporale, tra imperatore e Papa, e dà la sua soluzione a questa vexata questio, a tal punto da segnare una vera e propria rottura, per certi versi, nel dibattito teologico-politico del tempo. Possiamo dire che la lettura di Dante risente moltissimo anche della sua attività politica, se è vero come è vero che Dante, come noto, aveva lottato in difesa dell'autonomia del comune fiorentino dalle pretese temporali di Papa Bonifacio VIII. E dunque, l'opera di Dante può altresì intendersi come un tentativo di portare avanti e di propugnare le ragioni dell'imperatore e della sua autonomia, non da Dio si badi, bensì dall'autorità religiosa. Dio nomina, potremmo dire così, e dà pieno vigore tanto all'autorità religiosa quanto all'autorità temporale e ciascuna delle due deve procedere autonomamente rispetto all'altra. Ecco, il testo di Dante Alighieri è un testo scritto in latino e quindi sotto questo riguardo si differenzia dalle altre opere come la Commedia o anche come il Convivio. E però sul piano dei contenuti, se potremmo dire non moderno sul piano stilistico, il De Monarchia è modernissimo sul piano dei contenuti, anzi, a giudizio di Giovanni Gentile, il testo De Monarchia è il testo più moderno della Lighieri. Dice Gentile, nei suoi studi su Dante, che è il primo atto di ribellione alla trascendenza scolastica, il De Monarchia, da che sostiene, come ricordavo poc'anzi, la piena autonomia del potere temporale da quello spirituale. In particolare Dante prova nel De Monarchia a mostrare tutta una serie di cose che sono di grande importanza. In primis vuole dimostrare che la monarchia universale è il miglior stato possibile, giacché in esso l'uomo può sviluppare al massimo grado le proprie potenzialità intellettive. Idea poi che non era lontanissima da quelle propugnate dagli averroisti e dallo stesso Tommaso d'Aquino. In secundis col De Monarchia Dante vuole dimostrare che il popolo romano ha ricevuto da Dio la funzione di monarca mondiale e in terzis la Lighieri prova ad argomentare come l'impero germanico sia la continuazione dell'impero romano. E su questo punto gli storici sogliono sottolineare l'idealismo astratto di Dante, il quale ravvisava in Enrico VII il futuro monarca universale. L'opera consta di tre diversi trattati, di tre diversi capitoli, che affrontano questioni che possono essere lette anche con una certa indipendenza l'una dall'altra. Il primo libro si occupa della dissertazione sulla questione se l'ufficio dell'imperatore sia necessario al bene. Il secondo libro è dedicato invece alla dissertazione sulla questione se l'impero romano si sia imposto di diritto sul mondo o meno. E il terzo libro infine ha per oggetto la dissertazione sulla questione se l'autorità imperiale derivi dal pontefice o direttamente da Dio. Ed è proprio questo terzo libro il punto di svolta della politica della Lighieri, da che si dimostra come l'autorità imperiale derivi non dal pontefice ma da Dio, e dunque l'imperatore debba rispondere a Dio e non al pontefice. Questo è in sintesi, questa è la struttura del testo di Dante, che proprio per la sua portata innovativa, come si diceva col gentile, è un atto di ribellione verso la trascendenza medievale, il testo nel 1329 venne posto al rogo con l'accusa di eresia da Bertrando del Poggetto e nel 1559 sarà inserito dal Sant'Uffizio nel primo indice dei libri proibiti. La condanna sarà ancora confermata nelle successive edizioni fino alla fine del XIX secolo. Solo nel 1921 si badi Papa Benedetto XV nell'enciclica in Preclara Summorum dedicata a Dante scriverà In verità noi riteniamo che gli insegnamenti lasciatici da Dante in tutte le sue opere, ma specialmente nel suo triplice carme, possano servire quale validissima guida per gli uomini del nostro tempo. In tal guisa viene riabilitata, per così dire, anche l'opera sulla monarchia della Lighieri. Ebbene, a questo riguardo possiamo dire che l'opera di Dante, nella sua intelaiatura generale, confuta le tesi a favore di una dipendenza del potere politico o imperiale da quello papale. Questi testi, che hanno provato variamente a dimostrare invece che il potere dell'imperatore dipende da quello del Papa, sono in realtà testi che interpretano male la scrittura, dice Dante Alighieri. In realtà, diciamo così con Dante, gli argomenti a sostegno dell'autonomia del potere politico da quello spirituale sono molteplici. Il più importante è quello che si basa sulla natura spirituale della Chiesa, che ha ricusato per bocca del Cristo il potere terreno e la ricchezza, cosicché deve farsi carico unicamente del raggiungimento del fine spirituale. Così afferma testualmente Dante nel terzo libro del De Monarchia, due fini, l'ineffabile provvidenza divina posto dinanzi all'uomo come mete da raggiungere, a queste due beatitudini, come a termini diversi, bisogna arrivare con mezzi diversi. Alla beatitudine terrena si arriva attraverso gli strumenti filosofici. Quindi la filosofia ha per obiettivo il raggiungimento della beatitudine in terra, proprio come l'imperatore ha per obiettivo il raggiungimento della felicità in terra, nell'immanenza. Nell'ambito invece della beatitudine celeste spetta alla teologia e non alla filosofia garantirla, e spetta al pape e non all'imperatore garantirlo. Sicché due e diverse sono le sfere, temporale e spirituale, due e diverse sono le discipline che garantiscono la beatitudine, la filosofia nella sfera temporale, la teologia in quella spirituale, e ancora due e diverse sono le figure che si occupano di guidare l'umanità verso la beatitudine. In terra l'imperatore e nelle questioni spirituali invece il papa. Questo il costrutto generale dell'opera di Dante, che appunto sviluppa nei suoi tre libri gli argomenti or ora ricordati. Dice ancora il gentile che non soltanto la monarchia è il primo atto di ribellione alla trascendenza scolastica, ma in essa si esprime, dice gentile, l'agitarsi di uno spirito nuovo. Ecco, uno spirito nuovo che in qualche misura precorre già l'evo moderno. Sotto questo riguardo, seguendo la tesi del gentile, la monarchia di Dante è il testo più moderno, quello che spacca la tradizione della trascendenza medievale, apre all'idea di un mondo governato iuxta propria principia, potremmo dire con Bernardino Telesio, cioè guidato dai suoi stessi principi e quindi dal potere temporale, anche se poi ricordavo la forma è ancora quella del latino e quindi non del volgare. Quindi è un testo dirompente sul piano dei contenuti, non su quello della forma.